ciao benvenuto in Drupal per strutture ricettive questo corso si sofferma sul concetto di utilizzo di un content management system tra i più diffusi Drupal perché gratuito e semplice da utilizzare e in una funzione ben specifica quello per la prenotazione quindi la gestione di prenotazioni per strutture ricettive andiamo a scoprirlo assieme